Non c'è molto da sorridere quando si parla di economia globale in questi giorni. Il nuovo scandalo legato a una massiccia evasione fiscale, le continue difficoltà economiche in Europa, aggravate dalla crisi dei migranti e del terrorismo, i mercati emergenti che rallentano. Per discutere di questi problemi abbiamo incontrato Christine Lagarde, che è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Benvenuti a Global Conversation. Sembra che i ricchi siano destinati a essere sempre più ricchi. Nonostante tutti i discorsi sulla lotta ai paradisi fiscali, ora abbiamo lo scandalo di Panama Papers, che presumibilmente coinvolge alcune delle persone più influenti del mondo. Pensa che queste rivelazioni cambieranno qualcosa? Beh, è meglio che le cose cambino, perché come stanno oggi dimostrano che il lavoro iniziale avviato nel 2010 sotto la presidenza francese del G20 non è affatto missione compiuta. Siamo molto lontani, c'è molto lavoro da fare, l'attività di lotta deve proseguire e devolversi, perché non c'è limite alla fantasia di alcuni. È la punta dell'iceberg? Non lo so, chiaramente le indagini dovranno continuare per distinguere ciò che è legale da quello che è illegale, per vedere dove porre l'accento e quali cambiamenti sono necessari, ma c'è evidentemente altro lavoro da fare. Nel frattempo la ricchezza si concentra nelle mani dei ricchi. L'Europa ha una crescita debole e deve affrontare una sfida epocale come quella della crisi migratoria. Se guardiamo la situazione da un punto di vista puramente economico, vede l'immigrazione come un bene o un male? Abbiamo studiato approfonditamente quale sarà l'impatto della crisi dei rifugiati e il flusso dei profughi verso alcuni paesi europei. È chiaro che se si prendono le giuste misure per integrarli con la conoscenza della lingua, fornendo competenze professionali e dando sostegno all'alloggio, sarebbe un saldo positivo per i paesi che ospitano i rifugiati, ma credo che sia prima di tutto un imperativo umanitario e voglio davvero rendere onore al cancelliere Merkel per il coraggio che ha dimostrato in questo caso. È rispettata in tutto il mondo, la storia ricorderà ciò che il popolo tedesco ha fatto e sta facendo. Siamo qui a Francoforte dove è a sede la Banca Centrale Europea e se guardiamo ancora la crisi, il presidente della BCE Mario Draghi ha detto che farà tutto il possibile per mettere l'Europa di nuovo in pista, ma non possiamo fare a meno di avere l'impressione che siamo a corto di munizioni. Non pensiamo che le banche centrali stanno esaurendo le munizioni, ciò che crediamo è che non possono agire da sole. Rilanciare le economie, aumentare la crescita con un vero e proprio recupero sono obiettivi che non saranno raggiunti da politiche monetarie da sole, ma ci sarà anche bisogno di riforme strutturali, misure fiscali e queste azioni tutte assieme aiuteranno a ripristinare la situazione economica dell'Unione Europea e in particolare quella della zona euro perché si parla di politiche monetarie. Questo è fondamentale. Rimanendo in tema di prospettive di miglioramento, se guardiamo alla Grecia, la Grecia sembra avere di nuovo problemi. In base a fughe di notizie, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che portando la Grecia sull'orlo del baratro potrebbe aiutare nelle trattative. Solo che lei ha detto che è un'assurdità, ma quanto siete vicini a un accordo? Perché sembra abbastanza lontano. Ho detto più volte che abbiamo bisogno di un programma che funzioni davvero, finalizzato a ridare stabilità economica e dove il debito sia sostenibile nel lungo periodo. E' questo il vero punto oggi più che mai. Il lavoro è stato fatto, sono stati compiuti i progressi, ma c'è ancora molto lavoro che deve essere continuato. Le soluzioni rapide sono un'illusione. Solo le vere riforme sosterranno e aiuteranno la popolazione greca nel lungo termine. Se le riforme non arriveranno, che cosa farà l'FMI? Speriamo che arrivino. C'è bisogno che il programma funzioni davvero. Dovremmo trovare punti di equilibrio tra le riforme da una parte e il problema del debito dall'altra. Si è detto che un possibile default della Grecia potrebbe coincidere con la Brexit e il referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Alcuni dell'FMI hanno detto che sarebbe un disastro. Qual è la vostra opinione su questo? Quello che speriamo è fare passi in avanti e rimuovere l'incertezza. Quindi non penso che dovremmo unire le due cose. Non è mai stato questo il nostro approccio di negoziazione né la nostra tattica. Il dibattito sull'uscita del Regno Unito è qualcosa che spero si risolverà favorevolmente per l'Europa e per il Regno Unito. Non voglio interferire con il voto perché attualmente stiamo facendo un lavoro per valutare l'impatto economico che ognuna delle due opzioni avrebbe. Era la mia prossima domanda. L'ho anticipata. Quindi quali sarebbero questi impatti in un caso o nell'altro? Ancora non so perché stiamo ancora conducendo il lavoro che è preciso, indipendente e molto dettagliato. Le mie opinioni personali sono irrilevanti nel contesto della nostra discussione. L'impatto economico è qualcosa che abbiamo bisogno di conoscere e uscirà a maggio con l'esito di tale lavoro. Quindi se saltiamo verso l'altra sponda gli Stati Uniti sono alle prese con la campagna elettorale. Di recente una società di analisi dei rischi ha indicato Donald Trump in termini di potenziale minaccia sostanzialmente sullo stesso livello jihadista. Quindi ai fini dell'economia globale chi si dovrebbe preferire la Casa Bianca? Donald Trump o Hillary Clinton? Non ho opinioni politiche e non devo affrontare questa scelta perché non voto negli Stati Uniti anche se votassi non lo direi comunque. Sta alle persone decidere. Il Fondo Monetario è impegnato con i paesi. Il Fondo Monetario è al servizio dei popoli. La gente deciderà chi sarà il leader politico. Noi abbiamo un obiettivo che è la stabilità, la prosperità. L'altro elefante, peso massimo, è la Cina. L'FMI ha suonato la campana. Dovrebbe dire il panda, non l'elefante. Il Fondo Monetario Internazionale ha suonato l'allarme dicendo che c'è il rischio di un ralentamento dell'economia globale. Siamo a rischio di una nuova crisi finanziaria come nella 2008? Non c'è allarme, siamo allerta perché, come ho detto, l'economia è in crescita e non vi è alcuna crisi acuta ma vediamo rischi all'orizzonte che potrebbero materializzarsi e che potrebbero sommarsi. La Cina sta chiaramente cambiando il suo modello di business ed è una mossa legittima in considerazione del livello di sviluppo a cui la Cina è arrivata in questo momento. E' un grande giocatore e quello che fa ha effetti in tutto il mondo. Ci sarà un impatto sulla catena di fornitura cinese che ha un impatto sul prezzo delle materie prime ma è una situazione con cui lavorare e il Paese sta contribuendo ancora significativamente alla crescita economica globale. Lei svolge un ruolo molto stressante sta affrontando una prova molto dura e è accusata di negligenza nell'inchiesta sull'arbitrato fra l'uomo d'affari Bernan Tapie e la banca Credit Lyonese. In che modo incide sulle sue funzioni? La cosa non influisce minimamente sul mio lavoro. Gli avvocati fanno il loro mestiere e il processo farà il suo corso. Christine Leger, molti grazie per essere con noi su The Global Conversation. Grazie per aver guardato il nostro corso. Grazie a tutti.